Sarà il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo ad alzare il sipario sulla diciottesima edizione di Teatro Oltre, rassegna promossa dall'AMAT che mette in rete i teatri della provincia all'insegna della multidisciplinarità. Il primo dei 23 spettacoli proposti sarà quello con Tindaro Granata che propone Antropolaroid il decennale, primo spettacolo di un palinsesto dalla gestazione travagliata dopo i tanti ostacoli della pandemia. Dicevo, proprio questa programmazione è quella che è stata più funestata dalle dinamiche di pandemia e di chiusure che sono conseguite appunto allo stato d'emergenza. Per questo oggi è una grande gioia appunto riscoprire come non scontato qualcosa che ci era sembrato appunto così consueto, come l'abitudine di presentare ogni anno la bella rassegna che si occupa di teatro, danza e musica al presente. San Lorenzo in Campo, primo degli otto comuni che con Pesaro, Fano, Urbino, Cagli, Pergola, San Costanza e Urbagna apparecchia un perfetto connubio fra città e teatri in sinergia all'insegna della commissione fra prosa, musica e danza. Di questa lunga kermesse che si articola in 23 spettacoli di cui 13 sono nuovi eventi, Ex Novo, che presentiamo oggi appunto Ex Novo e 10 di essi invece sono in qualche modo la promozione, la rivalorizzazione di eventi che avevamo annunciato anche in occasione delle stagioni che erano stati già pensati come eventi di Teatro Oltre. Da San Lorenzo in Campo Teatro Oltre si trasferisce a Pesaro con tre appuntamenti, cantiera aperto per Claudio Gianfrancesco Giannini il 18 marzo alla chiesa dell'Annunziata e il giorno seguente allo sperimentale la musica di Giancane che torna sul palco con Tutto Giusto Tour. Sempre allo sperimentale il 25 marzo è la volta del Desidera Tour di Cristina Donà e del suo rock di Matrice Mediterranea. Poi la comicità surreale di Flavio Mastrella e Antonio Rezza in rompescena il 29 marzo al Bramante di Urbagna con Io. Il primo aprile si torna l'Annunziata di Pesaro con Palazzi d'Oriente in collaborazione con Black Marmalad Records. Ancora un atteso appuntamento musicale il 2 aprile al Teatro della Concordia di San Costanzo con Roberto Angelini e Rodrigo d'Erasmo in un omaggio a Nick Drake con Songs in a Conversation. Dopo il debutto assoluto al Teatro Grande di Pompei, l'affermata autrice regista siciliana Emma Dante approda al Teatro della Fortuna di Fanno il 7 aprile con Pupo di Zucchero la Festa dei Morti. E poi ancora in Mutonia in concerto il 9 aprile al Teatro Angel del Foco di Pergola dopo aver infiammato Palco e Tavolo di X-Factor 2021. E poi Teoria della classe disagiata di Sonia Antinore al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo e a San Costanzo Disco Bunker pluripremiata PS scritta e diretta da Marianna Bianchetti e Stefano Mereu. Al Teatro Sanzio di Urbino arriverà invece Roberto Mercadini con la più strana delle meraviglie, monologo da e su Shakespeare. E poi ancora a Pesaro la musica di riff e le dialo all'annunziata e il teatro sperimentale di Questo è il tempo in cui attendo la grazia del 2 maggio. Un maggio che continua l'insegna del teatro pastorale a Cagli del concerto Marta dei Grandi a Pesaro, una Pesaro dove va in scena anche la danza del Focus Festival e di toccare The White Dance. Il Teatro Sanzio di Urbino ospiterà la scuola di scenografia All Dead Fall, quello di Fano Bonjour di Silvia Gribaudi. Grande teatro anche a Pesaro il 29 maggio con Motus in Tutto Brucia. E infine il 7 giugno, l'atteso concerto pesarese dei Downs or Junior fino alla chiusura del 10 giugno al Teatro Sperimentale con Pandora e il Teatro dei Gordi.